da quando sono entrato in contatto con il settore del vending ho visto un crescendo di attenzione per il marketing e la comunicazione volevo capire ma il gestore come vive questo tema come lo sente tu che hai il contatto diretto appunto con con questo tipo di soggetto e di l'attore il gestore molto i gestori sono molto vari quindi si parte da gestori che magari sono la seconda o terza generazione che fanno vending piuttosto che gestori che iniziano l'attività in questo in questo periodo e gestori che invece hanno proprio un impronta all'evoluzione e alla crescita quindi ci sono varie varie mentalità una mentalità abbastanza radicata è quella che ho lavorato fino ad oggi in questa maniera e le cose che sono importanti sono il servizio e il prezzo quindi i due valori che spesso e volentieri vengono utilizzati per l'acquisizione la conquista di nuove fette di mercato inizio a trovare parecchi gestori che iniziano a pensare all'importanza anche della qualità del prodotto e come come insegnano i buoni venditori quando si ha un valore aggiunto la cosa più importante è saperlo comunicare e i nuovi canali di comunicazione oggi non sono più i volantini piuttosto che i supermercati piuttosto che stand dove far provare il prodotto i nuovi i nuovi veicoli per per farsi conoscere oggi sono questi benedetti social media che io essendo di una vecchia generazione ancora non li ho capiti molto bene però mi rendo conto del fatto che una una base molto importante cioè oggi essere nelle prime scelte di google essere presente con una descrizione su google di che cos'è l'azienda come fatta dove si trova qualche foto fatta bene avere una pagina facebook ben gestita è una parte molto importante anche se però identificato non solo in la problematica di riuscire a far capire al gestore l'importanza di questo genere di attività di marketing ma l'importanza anche di una riqualifica del personale di vendita perché non è sufficiente acquisire visibilità ma bisogna essere anche capace di vendersi in maniera più più slegata dall'unico valore aggiunto di abbassare il prezzo certo anzi che poi non è poi così un valore aggiunto anzi il valore aggiunto sarebbe riuscire ad ottenere quell'immagine tale per cui chi sceglie di mettere i distributori automatici del tal gestore all'interno della propria azienda o all'interno del proprio contesto scegliesse non più solo per una logica di prezzo quindi andando a vedere chi fa il prezzo migliore ma chi ha il prodotto migliore o il prodotto che soddisfa le reali esigenze di chi poi va a consumare assolutamente sì il fattore economico è molto importante nel vending nel senso che ci sono anche delle logiche alle spalle che sono delle logiche ormai consolidate come per esempio i rimborsi dello spazio occupato e quindi si giocano più soltanto vendo il caffè a 50 centesimi ma ogni caffè dato ti rimborso lo spazio occupato di un valore x però il problema è che noi utenti finali parlo anche dal lato mio come utente finale spesso e volentieri dovremmo anche essere in grado di riuscire a distinguere tra caffè, caffè buono, prodotto buono, scelta di un certo tipo di ampiezza però questo l'utente finale lo riesce a fare nel momento in cui è informato e quindi ha ricevuto una comunicazione da chi di fatto distribuisce poi il prodotto. Ci sono due interlocutori per il gestore il cliente diretto che è sostanzialmente il titolare dell'azienda che ha bisogno di inserire i distributori automatici ma anche il cliente finale che è l'utilizzatore del distributore. Come vedresti la comunicazione in queste due direzioni? Cioè cosa diresti a uno e all'altro per far sì di aumentare o di entrare in nuove fette di mercato? Quali sono le chiavi? Oggi come oggi le chiavi che stanno diventando molto importanti sono a mio parere o per lo meno per quello che vedo il gestore per poter entrare in nuovi mercati deve essere sostenibile sotto il profilo ecologico quindi vengono valutate se viene utilizzato il bicchiere di plastica, la paletta di plastica o la bicchiere di carta. E poi c'è tutto il tema che sta entrando dei bicchieri, palette, cannucce, non cannucce. Ci sono questi nuovi comportamenti di consumo determinati dalla celiachia piuttosto che da persone che hanno fatto una scelta vegana piuttosto che da una presenza abbastanza importante di comunità etniche che hanno delle abitudini alimentari legate alla propria religione che quindi richiedono presenza di materiale kosher piuttosto che halal. Quindi in realtà la capacità di riuscire da parte del gestore a capire a chi si rivolge, quali sono i prodotti che devono essere inseriti all'interno del distributore e chi è l'utente al quale si rivolge la proposta di cosa deve essere distribuito è una parte molto importante. Il problema è che il gestore non ha ancora secondo me compreso bene quanto sia importante l'aspetto della comunicazione di questa parte perché è difficile anche comunicare su un distributore automatico che conta 54 referenze che questo oggetto è per celiacci, questo oggetto è per kosher, questo è halal, questo è per vegani, questo qui non contiene materiali con guscio e via discorrendo. Quindi vedi la situazione del gestore al momento, non è ancora arrivato a dire qual è lo strumento più giusto che fa per me, ma ancora a come faccio a comunicare, cioè qual è il messaggio che devo creare? Secondo me hanno problemi sia nella formazione dei contenuti, sia nella formazione dell'offerta, sia nella comunicazione dell'offerta, nel senso che seguono la moda, il trend, l'informazione per l'appunto fatta da Confida piuttosto che l'articolo uscito sul tal giornale o gli obblighi di legge che portano a una direzione piuttosto che l'altra, ma non impostano la campagna per vendersi in maniera organizzata, in maniera mirata e in maniera soprattutto consapevole, nel senso che non fanno una campagna del genere, io decido un tipo di messaggio, creo un determinato contenuto, lo applico su dei canali di divulgazione, ne misuro l'efficacia e poi corrego il tiro per cercare di riuscire a capire se un tipo di messaggio rispetto a un altro è più o meno efficace. Io faccio sempre un esempio leggendo un libro che ha scritto una persona che ha avuto poco successo che si chiama Bill Gates, che è la strada che porta al futuro, esatto, raccontava di una crema che in America ha avuto un'esplosione, ma poi in tutto il mondo ha avuto un'esplosione incredibile, era nata come crema di bellezza, però non si vendeva tranne che in Florida, e quando hanno capito il motivo per cui si vendeva hanno proprio cambiato la logica di prodotto, che la crema di bellezza è diventata crema leperlente anti-zanzara, e questo qui l'hanno fatto soltanto grazie al fatto che hanno misurato, hanno indagato, hanno cercato di capire quale fosse il mercato potenziale. Infatti, secondo me è una cosa che voi uomini di marketing potreste portare come valore aggiunto, però mi piacerebbe anche capire il come, è la capacità di riuscire a impostare una campagna di comunicazione, ma soprattutto capire se la comunicazione sta avendo effetto. E qui è colto un aspetto molto importante, nel senso che rispetto agli strumenti, come abbiamo nominato prima, volantini, piuttosto che riviste, affissioni o cose di questo genere, è possibile grazie agli strumenti che si utilizzano oggi nel digitale, quindi parliamo di email marketing, parliamo di social media, parliamo di sito web, ma anche di pubblicità su Google o altri tipi di pubblicità digitale, il punto interessante è che si può misurare quasi in tempo reale, addirittura per certi strumenti anche in tempo reale, e questo ti consente di fare esperimenti che durano poco e che ti fanno capire se sei nella giusta direzione o cambiare il tipo di comunicazione, e quindi di fatto nel momento stesso in cui inizi a comunicare hai un feedback, hai un ritorno e riesci a aggiustare la direzione della comunicazione. Nel vending ad oggi, o almeno da quello che ho visto io, pochi lo fanno, pochi utilizzano gli strumenti digitali e quindi un altro motivo per cui consiglierei al gestore di iniziare a farlo è quello di godere del vantaggio di prima mossa, nel senso che essendo pochi che lo fanno, i primi che lo faranno e che sceglieranno di utilizzare questi strumenti avranno una visibilità maggiore di quelli che entreranno in un secondo momento. Ho provato per motivi di hobby personale a sponsorizzare un'attività che svolgo in maniera parallela tramite Facebook. Ci ho messo su dei gran soldi, ma i risultati sono stati veramente ridicoli. Io non ho la più pallida idea di chi abbia interagito, cosa abbiano fatto, come si siano comportati, se abbiano scaricato o meno il contenuto che volevo promozionare, non ho idea, non so quanta gente di quelli che secondo me erano il target giusto hanno realmente guardato quello che ho mandato. Se il target è giusto non sono riuscito a capirlo. Perché questi strumenti sono così limitati e non mi permettono di riuscire a capire se ciò che io sto spendendo lo sto spendendo per ottenere un risultato o meno? Beh, in realtà non sono limitati. Qua mi verrebbe da dire che prima di passare alla pratica bisogna fare ovviamente un'analisi e definire cose. Quindi ho fatto un errore di partenza? Quindi probabilmente questo è l'errore che sta alla base. Quindi ci va a indagare qual è l'offerta dell'azienda, quali sono soprattutto i punti di differenza rispetto ai concorrenti. E qua secondo me si apre nel vending un tema molto importante perché sembra che tutti offrono la stessa cosa. In realtà penso e spero che i diversi gestori abbiano quella che viene definita dal marketing la Unique Selling Proposition, ovvero la proposta di marketing unica che differenzia l'azienda dalle altre. Esatto, il vantaggio. Una volta che si sono definiti e mesci i paletti su questi aspetti si va a capire chi sono, qual è il pubblico di riferimento a cui mandare la comunicazione e da lì si declina il messaggio. Una volta declinato il messaggio si arriva allo strumento Facebook, Google, sito eccetera. Ovviamente prima di partire si deve impostare tutto il monitoraggio, altrimenti come hai detto giustamente non si riesce a capire se effettivamente poi quello che stai facendo è corretto o meno. Cioè monitoraggio, spiegami meglio perché non ho capito cosa... Per esempio si vanno ad individuare i KPI che sono gli indicatori di performance delle campagne, delle comunicazioni che sono per ogni strumento differenti. Per il sito per esempio possiamo andare a monitorare il traffico che riceve oppure quanti utenti hanno completato il form della pagina contatti. Come vuol dire il form della pagina contatti? Nella pagina contatti c'è di solito in tutti i siti perché di solito un sito tradizionale è composto dalla home page, la pagina che descrive l'azienda, i prodotti o i servizi e poi di solito c'è sempre una pagina contatti. Quindi il mio grosso errore è stato quello di prendere e fare un investimento di totte euro al mese su Facebook senza predisporre un'infrastruttura per registrare chi sta interessandosi a ciò che ho fatto. Esatto, esatto. Diciamo che il consiglio principale che do è quello di avere sempre comunque una piattaforma proprietaria che è il sito web. Perché è vero che ci sono i social, è vero che ci sono Google, eccetera. Il sito web è fatti bene perché ho visto in giro delle cose che sono... Sì, beh, assolutamente fatti bene, che siano visibili da mobile, che abbiano tutta una serie di caratteristiche che li rendono fruibili dall'utente finale. Sostanzialmente sono composti da queste sezioni e nel momento in cui noi facciamo delle azioni su piattaforme che non sono nostre, nel senso che non sono di nostra proprietà come i social media, poi avendo una piattaforma proprietaria riusciamo a tracciare esattamente chi fa cosa. Quindi se abbiamo individuato il target corretto e abbiamo mandato il messaggio corretto e questo lo si fa grazie al sito perché il sito è la vera e propria proprietà mentre i social media... Nostro, mentre dire il nostro, mentre dire il gestore dell'azienda... Assolutamente, perché Facebook fra quattro anni chiude e noi abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto. Oppure perde appeal per il pubblico e noi... Che è già successo se non sbaglio, adesso sta andando verso Instagram nel mondo. Si sta spostando verso Instagram, ci sono nuove app che stanno nascendo come TikTok, piuttosto che altro, ma sono ancora pannaggio dei giovani. Diciamo che poi sono i giovani che settano i trend. Beh, facendo la battuta classica che sono i prossimi clienti. Esatto. Poi alla fine. Beh, è vero, infatti. Infatti ci sono anche tante aziende che fanno azioni specifiche sui giovani anche se di fatto non vendono a loro, ma ci venderanno fra qualche anno. È importante avere tutta una serie di settaggi che ti consentono di monitorare passaggio per passaggio il percorso dell'utente fino a lead, contatto, e poi dal contatto fino alla chiusura della vendita. Perfetto. Quindi quei discorsi, normalmente quando vado dal cliente c'è sempre il momento davanti alla macchina del caffè, casualmente, nel quale si parla del più e del meno e molti mi dicono ah, io sto provando a fare pubblicità su Facebook ma non sta avendo nessun tipo di ritorno, quindi non è che ci creda molto in questa cazza bubbola di Facebook. In realtà è un pochino come voler prendere e iniziare a fare distribuzione automatica senza sapere come è fatta una macchina del vending e mettersi lì mettendo dentro il caffè aspettandosi che il caffè esca buono sin dal primo colpo. Esatto. Non è assolutamente magico Facebook. Tutta la pubblicità in generale online non c'è niente di magico dietro, è tutta competenza e lavoro che ti porta ad avere dei risultati. Uno degli errori per esempio principali che vedo in giro non solo nel vending ma nei settori più disparati è che si fa pubblicità, si manda genericamente sull'home page del sito web quando invece sarebbe necessario avere una landing page specifica. Cos'è la landing page? La landing page è una pagina di atterraggio che è studiata appositamente per mandare un messaggio specifico. Quindi noi facciamo, per esempio un gestore vuole fare una campagna per spingere la sua nuova macchina con il schermo touch e il sistema di topping sulla bevanda, non può ovviamente sperare nel mettere del budget su Facebook e poi mandando le persone sul sito generico. Deve mandare gli utenti su una pagina specifica che descriva precisamente qual è l'offerta, qual è l'offerta che fa, quali sono i suoi vantaggi e se effettivamente qualcun altro l'ha utilizzata, come si è trovato e che sono le famose testimonianze. Chiaro. Ovviamente questa è l'ending page... E questa è sempre la costruzione di contenuti che comunque deve essere fatta in maniera scientifica. Cioè non può essere fatta in maniera totalmente amatoriale? No, assolutamente. Vanno costruite, va educato l'utente, nel senso che spesso, per esempio, prima di fare una campagna di cosiddetta vendita pura o comunque di lead generation, quindi di generazione di contatti, di richieste di contatto, si va prima ad educare l'utente. Quindi di solito si creano dei contenuti che vadano a spiegare l'innovazione, che vadano a spiegare il contenuto di servizio, piuttosto che a dare informazioni di carattere divulgativo, informativo promozionale. E poi man mano che l'utente entra in confidenza con il brand e con l'azienda, lo si va a portare verso pagine che sono più specifiche appunto per la vendita. Facciamo finta che io sia un gestore. Vengo da te in quanto professionista del marketing e ti dico, Io sono intenzionato a promuovere la mia nuova macchina con dentro prodotti snack tradizionali, più all'interno dedico una parte importante ai prodotti dei nuovi consumatori, quindi cilierci, vegani e via discorrendo. Però il consumatore finale è il cliente che si affaccia alla macchina, ma la decisione tra me e un altro mio concorrente la prende non il cliente finale, ma il titolare dell'azienda o l'azienda pubblica amministrazione che ospiterà poi la macchina. A livello, come professionista, tu come io rienteresti una campagna marketing per farsi di riuscire a raggiungere coloro che prendono la decisione, sfruttando però il fatto del fornire un messaggio. Mi viene in mente quello che ho sentito recentemente nel discorso delle borracce negli distributori d'acqua delle scuole, che è una cosa che è abbastanza sensibile in questo momento. Cioè come faresti? Cosa proporresti per arrivare a coloro che hanno le chiavi di decisione, proponendo una cosa che però è utile all'utente finale e ovviamente faccia differenza? Sì, io li prenderei entrambi i binari, quello appunto di comunicare all'utente finale, ma anche comunicando contemporaneamente al titolare o comunque al decisore. Da una parte quindi creerei un'esigenza, un bisogno, o comunque farei presente che può diventare consumatore esigente il cliente finale, dicendogli guarda il distributore ha queste possibilità, sei celiaco, hai la possibilità di avere distributori che ti danno prodotti appositi. In questo modo noi andiamo a creare lo stesso meccanismo che c'è nell'industria del giocattolo che appunto sfrutta il meccanismo dell'ag factor. Cosa succede nell'industria del giocattolo? Le aziende comunicano al bimbo, ma in realtà il bimbo non acquista, non ha proprio potere di acquisto. E quindi sostanzialmente loro fanno desiderare così tanto il giocattolo al bimbo che attraverso il pianto o comunque la richiesta al genitore lo convince di acquistare. E quindi si prende diciamo il giro più lungo e si cerca di stimolare le necessità. Si crea fondamentalmente una base di persone che vogliono un determinato tipo di prodotto e tu sei casualmente quello che riesce a dare quel tipo di prodotto. Esatto. Come faccio io che sono di Prato a coinvolgere le persone di Prato che so che lavorano all'interno di aziende che potrebbero richiedere questo genere di cose? Noi possiamo andare a targetizzare in maniera specifica le persone che stanno in un determinato luogo. Lo possiamo fare su Facebook, lo possiamo fare su Google, lo possiamo fare su Instagram, lo possiamo fare su LinkedIn. Quindi si può scegliere tranquillamente fascia d'età, interessi. Fascia d'età, interessi, per sesso anche volendo. Ma addirittura a livello geografico possiamo essere anche molto precisi e andare a prendere il cap preciso piuttosto che non dico la via specifica ma quasi. Quindi possiamo essere veramente capillari nella comunicazione. Quindi teoricamente se io volessi fare una manovra potrei formare il mio commerciale, adesso parlo come se fosse un gestore ma non è così, mi metto nei panni del gestore, formare il mio commerciale, decidere una campagna su un determinato territorio dove magari sono particolarmente povero di distributori ma dove ho magari qualche distributore. Una volta formato il mio commerciale partire con una campagna e contestualmente alla campagna su Facebook magari potrei anche far fare delle attività di recall o sono superflue. No, assolutamente sono necessarie. Se non c'è di mezzo un e-commerce, il leader classico è quello di campagna, arriva la richiesta di contatto, ovviamente questo contatto una volta che ha lasciato i propri dati deve essere contattato appunto dal commerciale di riferimento o dal consulente. Quanto è importante secondo te che sei del mercato riuscire ad avere una visibilità del vending come settore come di una unità che è in grado di portare un livello di qualità ottimale ma a disposizione tutti i giorni di ogni singola persona all'interno di una struttura come Artura piuttosto che un'azienda, una fabbrica o un ufficio? Allora questo è sicuramente un tema interessante, tra l'altro è stato evidenziato anche da una ricerca che ha fatto Ipsos recentemente, il 70% di chi degli utenti finali sarebbe disposto a pagare anche 10 centesimi in più il caffè per avere un prodotto di qualità, quando invece spesso la scelta rispetto al distributore automatico da installare, come dicevamo prima, è percepita come una scelta prettamente legata al risparmio e al prezzo. Una campagna di marketing e di comunicazione, diciamo di settore come vogliamo chiamarla potrebbe sicuramente far bene a tutto l'indotto del vending perché andrebbe un po' a sensibilizzare a questo punto direi più il decisore che il cliente finale perché il cliente finale anche appunto dalla ricerca che ho citato poco anzi, ce l'ha già nelle corde la necessità e la voglia di un prodotto migliore, probabilmente è chi è alla regia delle aziende, quindi sicuramente una campagna di settore secondo me sarebbe importante perché? Perché istituzioni come Confida per esempio parlano direttamente al decisore più che all'utente finale e quindi sensibilizzare il decisore porterebbe poi di fatto ad avere a cascata tutta una soddisfazione maggiore. Possiamo riassumere tutto quanto che il mondo si sta spostando in maniera molto forte, il digitale è diventato una cosa alla portata di tutti, esistono sistemi smart payment, ormai il nostro mondo viene visto attraverso strumenti digitali quindi è difficile che si trovino persone che ancora fanno delle ricerche tramite vecchi sistemi tipo pagine gialle che te verrà da ridere, forse non te ne ricordi neanche. In realtà dalle campagne che abbiamo fatto negli ultimi due anni sul vending abbiamo ormai alle spalle alcune campagne specifiche per gestori, nel senso che abbiamo già fatto delle cose per i gestori e abbiamo raccolto delle evidenze che poi ci tornano utili nel momento in cui andiamo a fare altre attività per altri gestori. C'è una ricerca su internet di fornitura di distributori quindi non è vero che si guarda soltanto le pagine gialle o comunque strumenti di vecchia, non so neanche più se esistono, no infatti probabilmente non, però ci sono delle ricerche, su Google c'è l'evidenza di ricerche di questo genere, infatti abbiamo, da una campagna che abbiamo fatto recente sulla regione Calabria, quindi geotargettizzata per quella regione, abbiamo raccolto nel giro di sei mesi un centinaio di richieste di installazioni di distributori attraverso il canale Google, poi da lì alla trattativa e alla conversione del cliente è una partita che deve giocare il gestore, noi lo possiamo in qualche modo indirizzare, dargli dei feedback, però la parte commerciale ovviamente è a pannaggio del gestore. Noi dobbiamo, dal canto nostro, offrirgli dei contatti, quindi ne abbiamo avuti un centinaio in sei mesi in Calabria, abbiamo avuto oltre 200 nella regione Lazio, quindi insomma su internet ci sono le richieste e ci sono ovviamente anche in regioni, in tutte le regioni, immagino insomma noi abbiamo per ora lavorato principalmente su queste due, abbiamo fatto qualcosa anche in Lombardia e sono strumenti che secondo me vanno esplorati. Però esplorati sapendo già più o meno quali sono i numeri. Esatto, esplorati con i numeri ma esplorati nel modo corretto perché altrimenti è facile dire ah sì ho aperto Google AdWords perché poi di fatto non è impossibile fare in autonomia una campagna su Facebook o in Google AdWords, ovviamente sono gli strumenti stessi che cercano di rendere facile la vita all'imprenditore. Però mi è successo troppo spesso di entrare in contatto con imprenditori che avevano provato a fare il fai da te e poi dopo un mese ah ma non funziona. Perché? Perché come si faceva una volta anche gli strumenti digitali pur sembrando facili da utilizzare vanno sfruttati nella maniera corretta. Poi si può anche dire guarda abbiamo provato, abbiamo ottenuto questi risultati, abbiamo raccolto queste informazioni, non fa per noi. Succede e succede a noi tutti i giorni con i clienti, ci sono certi settori, certi momenti, certe aziende per cui il digitare non funziona. Sì però bisogna sempre avere un approccio ingegneristico. Esatto. In senso che bisogna partire con l'idea di dire io faccio un determinato tipo di campagna, se prendo una decisione di fare un tipo di investimento per indagare uno strumento di comunicazione definisco il budget, definisco le tempistiche e qualsiasi cosa succede nell'arco del tempo porta avanti l'attività, solo alla fine posso prendere e decidere se lo strumento è utile o meno. È proprio per questo che noi consigliamo sempre e facciamo sempre, anzi in realtà non le accettiamo proprio campagne che durano meno di sei mesi, perché sono il lasso di tempo minimo per raccogliere quelle evidenze, quelle informazioni che ti consentono di prendere decisioni che possono essere di continuare o di fermarti, o di modificare. Oppure di modificare. Per esempio il fatto di modificare, il fatto che voi abbiate già esperienza sul settore del vending, consente già di riuscire a evitare i falsi amici all'inizio del percorso? Beh sicuramente il fatto di conoscere un settore, e questo non è solo per il vending, funziona per tutti i settori, quando ci si affida a una realtà che già conosce in qualche modo il settore, si tagliano tutta una serie di asimetrie informative che portano a piccoli o grandi errori all'inizio della campagna. Una delle domande che consiglierei sempre di fare a un imprenditore che vuole fare una campagna di marketing è chiedere all'agenzia a cui si rivolge, o all'azienda a cui si rivolge per fare la campagna, se ha già lavorato nel settore. Come si fa a scegliere un'agenzia? Quali sono i presupposti? Se tu dovessi vendermi la tua attività, quali sono le tre cose che io devo valutare e mettere sul piatto della bilancia? E per me il driver economico è sempre uno degli ultimi, nel senso che il discorso del denaro da investire deve essere proporzionale al servizio che ottieni. Io sicuramente non prenderei l'aspetto economico per scegliere. Perché? Perché soprattutto nel web marketing, nella comunicazione digitale e nel marketing digitale si trova veramente di tutto. Da chi ti offre un servizio a 40 euro al mese fino a chi te lo... lo stesso servizio te lo offre a 1000 euro al mese. C'è la differenza. Spesso magari non si capisce perché tutti usano parolone che poi di fatto non vengono comprese. Magari in inglese. Esatto. Beh, l'inglese ovviamente la fa da padrone. Quindi andrei più che altro a fare domande, non tanto sugli strumenti che vengono utilizzati o su che cosa nello specifico va a fare l'agenzia che va a creare la campagna, ma farei più domande sulla conoscenza dell'agenzia rispetto al modello di business del settore. Ok, quindi secondo te è molto importante il fatto di parlare vending? Parlare vending, esatto, esatto. Secondo me questo è importante. Per esempio il vending, l'abbiamo parlato in tutto il corso di questa chiacchierata, a quale ha come caratteristica specifica che di fatto parla a due persone. Una realtà che non conosce il vending probabilmente non lo sa. Chiaro. E invece è fondamentale sapere che l'utente finale e il decisore sono diversi, ma che di fatto bisogna portarli ad interagire per aumentare i risultati nel settore. E un altro aspetto che andrei ad indagare è se all'interno della campagna vi è un momento in cui c'è la reportistica, se c'è un momento in cui si dice ok, ci fermiamo, ci sediamo e discutiamo di quello che è successo, dei risultati che abbiamo ottenuto, dal punto di vista sia del gestore sia dell'agenzia, perché l'agenzia ti potrebbe dire, secondo noi è andata bene e ovviamente lo deve motivare, perché? E magari però dall'altra parte non c'è la stessa sensazione. Spesso è successo, oppure a volte succede, perché? Quando si fanno le campagne si dice, si vuole il risultato subito. Ma in realtà, lo saprai meglio tu di me, che le trattative commerciali magari iniziano oggi, si chiudono fra 12 mesi. Ma è successo anche 3 anni. Esatto. Quindi quando si fa la campagna di 6 mesi, inizia gennaio, si ferma giugno, a giugno si tira una riga e si fanno le somme. In realtà non è vero, perché magari uno dei 100 contatti che sono arrivati in questi 6 mesi, magari convertono e comprano a fine anno. Ma lì entra dentro un argomento molto poco conosciuto nel settore del vending, ma in generale nell'azienda italiana. C'è il concetto del CRM. Per esempio, io e Alturas, come è che misuriamo come stiamo andando? Non solo dal fatturato, ma dal valore complessivo delle trattative che sono messe in piedi. Perché una regola che mi disse la prima persona per cui andare a lavorare, tal Renzo Caggero della Comped, disse ricordati sempre che se fai 100 trattative probabilmente ne chiudi 10, se ne fai 10 probabilmente ne chiudi una. Quindi questo qui è un po' la logica. Però se ne fai 100 è più bravo che ne chiudi 15, perché nel frattempo diventi anche più bravo. Esatto. Sicuramente il CRM è un argomento molto importante, sono contento che siamo arrivati appunto a trattarlo, che l'avevi messo in evidenza, perché avere tutto il processo dall'acquisizione del contatto all'acquisizione del cliente tracciato all'interno di un sistema, di un software che ti consente di avere informazioni storiche rispetto ad ogni cliente, sia puntuali, quindi sia sulla vendita immediata, diciamo di diretta derivazione dalla campagna, ma anche di avere informazioni sulle vendite e sul rapporto che hai con il determinato cliente nel tempo. Quindi CRM, Customer Relationship Management, cioè software dedicati apposta alla gestione del rapporto con i customer, quindi con la clientela sia potenziale sia acquisita. Qui si integrerebbero ovviamente molto bene azioni di email marketing specifiche, perché se noi abbiamo all'interno del nostro CRM segmentato e descritto in maniera puntuale le necessità e le esigenze dei vari clienti, riusciamo a mandare anche comunicazioni specifiche attraverso l'email marketing per fare vendite specifiche e quindi andare a rispondere ad esigenze attrettanto specifiche. Quindi vuoi dirmi che se io vengo contattato da un cliente ORECA e non gestisco l'ORECA in questo momento, fra due anni, l'ho censito nel CRM, fra due anni inizio a lavorare con l'ORECA, posso riprendere tutti i clienti ORECA e fare un mailing per proporre la macchina ORECA a tutti quanti. E qui hai colto un aspetto importantissimo, nel senso che se tu all'interno della campagna hai raccolto un centinaio di nominativi che hanno dimostrato un interesse, non è che questi nel momento in cui ti hanno detto no, oggi sono spariti. Tu comunque hai messo in CRM, nel tuo database, 100 contatti che comunque hanno un valore e che puoi riutilizzare e ripescare nel tempo.